Arriva Halloween e come ogni anno eccoci nuovamente di fronte a nuovi fantasiosi costumi tratti dalle più grandi produzioni di horror. Che siano realizzati a mano da H&T Cosplayer oppure acquistati nei negozi specializzati, il tema più ricorrente dell'autunno 2017 è uno solo, IT, il clown assassino ideato da Stephen King nel 1986. Il ritorno in auge dovuto all'ultimo film del regista Andy Muschietti porterà migliaia di persone di tutto il mondo a colorarsi il volto di bianco e a munirsi di palloncini e naso rosso per emulare il cattivissimo Pennywise. Se c'è chi aspetterà la notte del 31 ottobre per vestirne i panni, in molti hanno già postato online le proprie foto e la messa a punto del temuto costume, riempiendo le pagine dei social network con le foto di innumerevoli pagliacci assassini. Una vera e propria clownisteria, dovuta anche a fan e personaggi che si divertono malamente a nascondersi in giro per le strade per terrorizzare i passanti, comparendo all'improvviso nelle vesti del pagliaccio, magari armati di mazze da baseball, falci da mietitore o martelli giganteschi. Una vera e propria moda che fa leva sulla colorofobia, ossia la fortissima paura sociale dei clown e in genere delle persone d'avviso completamente coperto da una maschera di trucco. Ma se vi interessa soltanto divertirvi, ispirandovi al vostro film preferito, state attenti. Lo scorso anno praticamente tutte le ragazze erano vestite da Harley Quinn o Joker di Suicide Squad. Quest'anno potreste ritrovarvi circondati da centinaia di hit. Le immagini fanno il giro del web raccogliendo così i preparativi di chi vorrà passare una spaventosa nota di Halloween. Ma a far concorrenza Bill Skarsgård non sono soltanto i fan di tutto il mondo. Tra le tante foto spunta anche quella di un simpatico cagnolino. Ma se dopo il sold out al botteghino, hit farà il tutto esaurito anche tra i costumi di Halloween, c'è anche chi si è fatto venire qualche idea ben più originale. Tra bambini vestiti da anziana e signore e costume realmente spaventosi, la rete offre idee per tutti i gusti.